Ciao Ferre, vieni qua, vieni qua, vieni qua Che ci fai lì? Ho una nuova piscina, guarda, ti piace? Non è una piscina, sei in mezzo a un lago e stai sfruttando la marea e le onde per nuotare No Ferre, è la mia piscina privata, è bellissima, è super natural L'ho comprata e me l'hanno fatta pagare un sacco di soldi Ah no, quindi diciamo che quando non hai i soldi uno si piazza qui e fa finta di avere una piscina Esatto, bravissima, e poi mi mimetizzo insieme ai cespuglietti degli scogli, sembro uguale, uguale Quindi sono perfetto Ferre Oh mamma mia, oh mamma mia E ragazzi, come va? Io sono Ferre Niki E io sono Stef, che senti come GTA V E siamo qui prontissimi per fare un nuovissimo episodio delle Olimpiadi tra gli animali di GTA V Forza Ferre, sono pronta a gareggiare, sono prontissimo, questa è la piscina più grande del mondo Sono bloccato Lo sapevo che ti saresti bloccato, perché ti sei infilato là? Esci fuori Non so come fare Ferre In ogni caso, quest'oggi, dato che vi sono piaciute tantissimo le Olimpiadi con gli animali In quel caso, nella gara di corsa, abbiamo deciso di provare diverse cose Vogliamo provare qual è l'animale che vola più veloce, perché in effetti non lo sappiamo E vogliamo vedere qual è l'animale che nuota più velocemente Quindi quest'oggi scopriremo nel cielo e nell'acqua che è più veloce, diciamo così Andiamo a fare, sono pronto Da dove sei? Non mi vedi? Ah, ecco ti, ecco ti, no, non ti vedo Sono un cane però Non so perché, però sei buggato, io non ti vedo, quindi per quello non capivo Cioè, vuoi volare comunque Allora, dai I cani non possono volare Sei pronta a perdere? Gabbiano contro aquila, giuro Però tecnicamente questo posto è il mio habitat naturale, scusa I gabbiani vivono dove c'è l'acqua, quindi potrei vincere Se vinci me ne vado Allora, sei pronta? Aquila contro gabbiana Scusa, 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 non lo rifarò mai più Come si frena sta cosa? Aiutami No, non ti schianta, non ti schiantare, ok, ce la faccio, ce la faccio E dopo una figuraccia che fa perdere valore alla velocità di Ferenichi Allora, parla quello che l'altra volta praticamente ti hai schiantato 20 volte con l'acqua Uno, via Vai, vai Ok Ok, aiuto Feren, dimmi se ti sono molto davanti o meno Eh, sì Posso guardare? Ok, ok, ok Ti vedi buggata, vero? Sì, sì Anche io ti vedo buggato quando si guarda Però mi sa che sto stravincendo, eh Allora, vince che arriva alla fine del canale, quindi capiremo così chi è più veloce Però al momento sinceramente sto... non la vedo neanche più Non la vedo neanche più No, non ti vedo neanche più La sto seminando, signori Non ti vedo neanche più Per ora l'aquila è l'animale volante più veloce Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo Parto in vantaggio Dai che me la vinco Ci sono i tuoi simili Vero? Te l'ho detto che questo era il mio avviso Sì, sì, guardateli, guardateli, guardateli Uhuhu Lo so io però, aspetta Io sono ancora molto indietro Lo so Vedo il veicolo però, credo Sì, lo vedo, sto arrivando Io sono arrivato Ho fatto due giri e sto tornando indietro, Feren Vado già a riposizionarmi per la prossima corsa Mi vedi, mi vedi Vabbè Fere, ma davvero Ma davvero l'unica cosa che mi hai trovato è un corvetto Ascolta, ascolta Stef Sì Tipo gli uccelli sono quattro Non è che c'è tutta questa grande scelta Quindi è ovvio che si passa al corvo Secondo me il corvo Sì Può avere qualche possibilità Lo so che l'ho detto anche per il gabbiano Secondo me stai già facendo un investimento sul più lento No, no Due Uno Via Si vola Vai Ok Ok Come ti è sembrata la partenza, Fere? Fammi sapere, fammi sapere, dimmi qualcosa Ti sto seminando? Sì Ok Allora, la partenza all'inizio mi è sembrata anche buona Perché No, 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 no È partito più scattante rispetto al gabbiano Ok Quindi diciamo che per un attimo ho avuto un barlume di speranze Allora, cara mia Direi che l'aquila è l'animale volante più veloce di tutti Inizia a scegliere su chi vuoi scommettere per quello più lento Perché devi cercare Ma c'è il piccione, il piccione vince sull'aquila Fere Ma dai, perché non diamo una possibilità Anche i piccioni, è qualcosa contro i piccioni Non farmi perdere tempo È qualcosa contro i piccioni Non farmi perdere tempo, sono un'aquila reale Ed il reale non ho soltanto il nome Ma finché è arrivato al traguardo Eh, praticamente, sì Fere, ma erano cinque gli animali volanti Ciao, Steph Ciao Ce la posso fare a camminare fino al traguardo Ce la posso fare Allora, Consolini questo merita la gara con sondaggio e commenti Mi ero dimenticata di lui Allora Anatra contro piccione Non è un anatra, non lo so che cosa La sfida all'animale volante più lento di sempre Votate nel sondaggio, commentate perché questa è davvero epica Sei pronta? Io non so chi può vincere Ma spero di portarmi a casa la doppietta Allora, no, io sono fierissima di aver scelto il piccione Ok Perché tu non gli hai voluto dare una possibilità tra i più veloci Secondo me in questo momento si riscatterà Spero Spero che saranno tre più veloci, Fede Lo spero vivamente 3, 2, 1, andiamo Scusa, sono già partita Lo so No No, no, mi sono schiantata Fede è morta Ok Ok, ci sono Ci sono È velocino, eh È velocino Sono veloce Sono veloce Ho qualche speranza Ho qualche speranza Allora No, 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 no Sono più veloce io Sono più veloce io Eh ma in questo caso vince il più lento Lo so Vince il più lento quindi vinco io Però almeno così non devo fare la sfida piccione contro Aquila Reale Quindi sono felice almeno di quello Forza con quelle alette piccione Forza Sì, sì, sì Ho vinto Ho vinto Ho arrivato No, ho vinto io Sono il più lento ho vinto io Ho trovato il più lento Ho vinto Siamo pronti, Fede? Andiamo? Sì, prontissimi Fede? Stai dicendo che una gallina non può volare? Allora Guarda che belle alette che ho Hai già provato a difendere il piccione E non è andata bene Non è giusto che le galline non possano volare comunque Non è giusto Se vuoi mettere anche i pinguini Io non la trovo una cosa giusta nel mondo Te lo dico Dai, su Diventa quello che devi essere Questo coso In inglese è cormorante Dobbiamo cercare in italiano esattamente che cos'è A me viene cormorano Ma poi non so bene che tipo di specie sia Forse Vabbè Tre Qualcosa Ti prego vinci a quilotto Uno Via Andiamo Oddio Ok No, sono andata a stort Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta Ho preso il volo Ok Posso librare nell'aria Signori Guardate un po' Cioè, a parte che l'è baggata Ma fin lì ci arriviamo tutti Siamo parecchio alla pari Secondo me piano piano la sto Un pochettino distanziando Ma non ne sono neanche così sicuro Quindi Non capisco se sono più veloce Interessante questa gara Molto interessante Tu come mi vedi? Controlla la tua destra? Ti vedo a fianco a me baggato Perché anche io ti vedo baggato Ok No, 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 sto avanzando, sto avanzando Sono più veloce Sono leggermente più veloce Voglio vincere Voglio vincere, forza Sono praticamente sicuro Che sia il secondo animale volante più veloce Sì No, sì, assolutamente Guarda, è l'unico che più o meno sta tenendo testa l'aquila Perché gli altri rimanevano molto, molto, molto più indietro Io per iniziare ovviamente ho scelto la squalo Ovviamente devi farmi queste cose Guarda, sei terribile Fere, vieni un po' più avanti che sta cambiando la marea e rischi di morire Oddio, 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 oddio Così, va bene? Che dici? Allora, quindi io sono la squalo Fere ha scelto un defino Direi che siamo pronti Fere, basta che fai tutto in tempo e giri verso destra e giri intorno poco, poco, poco Sì, perché hai notato che non sta fermo? Eh sì Cioè, praticamente le onde Le onde esatto non lo fanno star fermo Quindi è davvero un problema Vieni qua Il primo round è squalo contro delfino Non so chi è più veloce, sinceramente Ed è davvero difficile da gestire Di sicuro so chi è più cattivo tramite Quello sì Ed è proprio senza dubbio Però chi è più veloce non lo so 3, 2, 1 Andiamo Vai, vai, ok Allora devi gestire bene con WRS Se ho notato, eh Sì Io sono molto veloce Tu cosa, come ti sembra? Così, così Guarda che siamo abbastanza vicini Una fianca l'altra Sì, sì, sì Che buio che c'è Aspetta che vado un po' più in alto Che brutto Faccio vedere la pinna Ai turisti Così si spaventano Per spaventarli se qualcuno si sta facendo il bagno Fere c'è buio Inizia a vedere un po' di rocce Inizia a vedere un po' di rocce Sì, sì, pure io, pure io, pure io Ok, manca poco Dai, veloce Ci siamo, sì, ci siamo Vai, ti vedo adesso 3, 2, 1 Arrivato Davvero? Sì No, non dirmi che sei più veloce tu Leggermente Perché guarda se è appena arrivata anche tu Sì Quindi 2-3 secondi E ho notato già subito una differenza dagli animali terrestri Ok Hai notato una cosa anche tu? No Che cosa? Non si stancano Ah, sì Vanno sempre alla stessa velocità Quello sì Ciao Fere Ciao Steph Come va la vita da squalo? Così, così Anche a me non piace molto No, no, non mi sento bene Poi ho gli occhi un po' storti Sei come Vabbè In effetti non mi piace avere un occhio qua Un occhio qua Ma va bene, va bene Allora Spero che per la gara non sarà un problema L'obiettivo è arrivare alla fine del canale Quindi al mare aperto Quindi chi arriva per primo al mare aperto vince Vediamo qual è lo squalo più veloce Dopodiché ve lo inizio già a dire Ci saranno le balene Quindi preparatevi perché Lì sarà la fine del mondo 3 2 1 Andiamo a fare Vai Ok Allora Io non so neanche in che direzione devo andare Cioè sto un po' Andando a casaccio Eh no, sei giusta, sei giusta, sei giusta Secondo me Sì, 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 sì Allora per ora siamo uno a fianco all'altro Quindi non è male Non è male Sì, sì, sì Sto vedendo qualche problema ad andare veloce Stavolta, devo essere sincero Sì, sto notando un po' peggio Sono fuori forma Ah, forse ti sei stancato dalla prima gara No, è il tipo di acqua, capito? L'acqua del lago mi piaceva molto Invece questo acqua Non è vero, non c'entra nulla Mi toglie un po' di forze Non c'entra nulla Però la voglia di azzannarti mi fa venire voglia di correre di più Ah, sì, mi sembra giusto Quindi mi dà una mano Ok Devi anche schivare gli oggetti, hai visto? Un pidone di testo, ho preso È una gara interattiva Mamma mia, mamma mia Gara da scottacoli Dai che ce la faccio Finiamo così ho vinto? Sì Ok Ops Che succede? Sono uscita fuori e sono morta Eh sì Squalo tigre più veloce di delfino Squalo, come ti chiami tu? Martello Squalo martello più veloce di squalo tigre Vediamo se l'orca assassina è più veloce dello squalo martello Più che non è un'orca assassina È un'orca e basta No, questa si chiama orca assassina È il nome che Ma non l'hai mai visto Free Willy il film con l'orca super carina e pucciosa Quindi diciamo che è super carina e pucciosa E cosa dobbiamo fare qua? Legare degli animali acquatici più perfidi del mondo? Facciamo la cosa Vieni qua, porgi un attimino una tua zampa E vediamo se sono perfido o meno Guarda che mi stanno già sboccando i denti Quindi non provare Comunque ho già messo anche una cosa al traguardo per capire che è finita la gara Così va anche meglio 3, 2, 1 Si parte Via Ok La partenza è sempre strana con gli animali acquatici È davvero un problema Ho capito cosa intendevi con il delfino che fa così Lo fa anche l'orca Vedi, vedi, vedi È strano quando nuota Faccio anche versi strani Eri tu, aiutami Sì, vero Che cos'era? Vabbè, il verso dell'orca è giusto Sono io, vero È giusto, è giusto A che punto sei? Ti sto battendo Oh, mamma mia Smettila che mi fa venire I brividi Mi sento queste cose alle spalle La smetti Mi sta facendo posta Sta arrivando No, ti batto Ti batto Non puoi vincere Devo vincere Devo trovare anche l'animale acquatico più veloce No Non solo quello terrestre No Inizio quasi a non vederti più addirittura Oh, davvero? Già È perché è saltella Sta orca, è assassina Invece che non dare dritto per dritto Fa sti saltellini Boh E poi fai versi Invece che pensare ad andare più veloce Ah, eccola Il carro attrezzi sott'acqua che abbiamo messo Ciao, Fede Vinto Vinto E tu che fai ancora versi Viene per un po' di vuoi Sono Steph, cosa hai mangiato oggi? Ti sei mangiato il carro attrezzi che c'era al traguardo e si è diventato così Ho capito, ho capito Bravissima Allora, non mi prendono in giro per la mia stazza Sono velocissimo, ok? Sono un atleta allenatissimo 3 2 1 Andiamo Vai, vai, vai Oh, oh, oh Ci stiamo schiantando Aiuto Sei troppo grande E occupi tutto il canale Ma come facciamo? Non riesco a capire neanche se sto andando veloce Aspetta che voglio vedere Ecco, ti vedo, ti vedo O io sto già andata, eh Mi sa che sono lentissimo Aiuto Ma davvero? È quasi spiaggiata, Fede Fa pena Dalle stelle alle stalle Già, già Però tecnicamente è molto veloce Tecnicamente lo è Vuoi fare a cambio allora, Fede? No, grazie Ecco Quindi non è veloce È l'ultimo animale acquatico che ho a disposizione su GTA Quindi Se non è più veloce di Fede Niki Neanche questo Ho ufficialmente perso E il squalo a martello Lo squalo Lo squalo a martello E il pesce Pesce Più veloce È un pesce, sì Un pesce Di tutti Quindi Sono pronto Sono gasato Fede si è messa male È storta Non regge la competizione Vieni tu un po' più avanti Sto cavolo di squalo Non sta fermo Quindi io non riesco a farlo stare Fermo al traguardo Capito? Mi sono lentissimo sto a essere Vieni un pochettino più avanti E siamo pronti a partire 3, 2, 1 Inizia a partire via Come inizia a partire? Vado No Fede 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 Fermati 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 No no Ormai Ormai vado Voglio infierire Ti prego torna indietro Voglio infierire No mi dispiace Mi dispiace Voglio vedere la tua sconfitta E per la seconda volta Fede Niki trova l'animale più veloce Sti in terra che in acqua E dopo aver decretato il pesce più veloce Dovremmo decretare quello più lento Quindi per una volta Steph vincerà non arrivando al traguardo Allora Molto simpatica Grazie Però volevo dire che è già una finale Perché siamo già sicuri che questi due sono gli animali più lenti in acqua Quindi è già la finale Uno contro l'altro Posso di nuovo andare in pareggio vincendo sull'animale più lento Ci spero tantissimo dopo averlo visto a nuotare Quindi sono gasato E' pronto Tu sei pronta a fare? In pesce invece non sappiamo neanche come nuota Esatto Io non ho la più palidea Sì sono pronta 3, 2, 1 Andiamo Vai Oh Ok Ok Mamma mia Ero abituata a essere uno squalo velocissimo Guarda adesso Sei in shift fare? Sì Davvero? Sì Tenuto premuto Sempre Sei già più avanti No Ti sto raggiungendo però Forse sono più veloce Sì Sì Perché arrivare al veicolo ci mettiamo 6 minuti Nuota in un modo molto calmo e rilassante Anche il pesciolino è davvero rilassante Finalmente no Rispetto agli squali e delfini è molto più rilassante Quindi mi piace Sì 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 Soprattutto lo squalo per me è stato un trauma Quindi Oh ciao altri pesciolini Speriamo che questo video vi sia piaciuto Allora Ricapitolando tutto Ferenichin ha indovinato 3 su 4 Quindi Adesso sappiamo che Lo squalo martello è l'animale Che va sott'acqua più veloce di tutti Quindi quello che nuota più veloce di tutti Il più lento invece Ferenichin non mi ricordo più Era il pesce Il pesce normale Il pesce Sì 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 Perché il mio Era leggermente più veloce Poi L'animale invece che vola più veloce È l'aquila E l'animale che invece vola più lento È il piccione Che sinceramente non mi sorprende molto No vabbè è giusto è giusto Almeno diciamo che È tutto abbastanza realistico Comunque se ci pensi Sì dai abbastanza Sì abbastanza 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 A parte la tua anatra Che era quasi veloce quanto La mia aquila Tu non lo sai se il cormorant È veloce quasi quanto un'aquila Cioè non capiamo neanche bene Che tipo di specie sia Non credo Magari è molto veloce Potrebbe essere Dovremo cercare In ogni caso ci fermiamo così Nei commenti Iniziate a proporci Delle olimpiadi Che vi piacerebbe vedere Sia con animali Sia con magari veicoli O qualsiasi cosa Cosa ne so Ad esempio La macchina più veloce E la barca più veloce La barca che salta di più Non lo so Sto inventando La barca non può saltare Lo so Lo so Io ve lo fai degli esempi Ma mi è uscito solo una decente Esempi di qualsiasi cosa Insomma Esatto Olimpiadi di qualsiasi tipo Su GTA Abbiamo ancora un bel po' di idee Però iniziate a proporci anche Le vostre cose Che ci piace sempre Propare le cose Che ci proponete voi Insomma Quindi ci fermiamo così Speriamo che il video vi sia piaciuto Appunto Tanti commenti Sondaggino Likes E ci vediamo domani Beh ragazzi Se vi è piaciuto Sieteci per like E questa è la prima volta Che vi è detto Il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi L'altro episodio Ciao E alla prossima Ciao Ciao Ciao